Il passaggio di microfono è stato un passaggio di testimone, tra i due carri. Il nostro Carlo Alberto Cora, adesso Presidente a Papare, inserito nella Fibra, persona che ci ha dato l'app per fare tante iniziative, ora sono contento di cedere a lui le parole. Innanzitutto grazie a chi ha parlato fino adesso, grazie a chi è intervenuto, grazie a chi ci sta sostenendo, agli assessori, alle realtà sportive, alle istituzioni, soprattutto alla famiglia Occhi, alla Geosec, alle società, ai genitori, ai ragazzi. Sono tante realtà che costruiscono la base per poter creare questo circuito, per riuscire a portarlo avanti. Non è la mia matrice quella di divulgarmi tanto in preamboli e di solito mi sarei spinto ad andare direttamente al solo, al calendario, però mi sento quasi spinto a fare un tre d'unione rispetto a quello che è stato detto soprattutto da Diretti, che in parte mi ha anticipato, infatti ringrazio perché mi ha tolto la seconda parte del discorso, e in parte quello che ha detto il maestro dello sport e dei voti. Io lo ringrazio ancora, non l'avevo fatto a suo tempo perché ero piccolino e timido, lo ringrazio ancora perché in piazza Duomo e al Tardini c'ero anch'io. Sono stati due ricordi fantastici. Quello che invece vorrei fare, vorrei ripartire, è stato appunto dall'esperienza del circuito provinciale di 25-30 anni fa, perché ormai risaliamo a quei tempi. C'è stato poi un periodo in cui grazie alla volontà di tante persone a cominciare da alcune società come l'Albero del Volley, come l'Energy, come il Felino, anche come Papà l'abbiamo cercato di organizzare la proposta della giovanile, si è continuato con tante iniziative, spesso ottime dal punto di vista organizzativo, buone dal punto di vista dei risultati, quello che un attimino è mancato in quel periodo lì era stata una continuità, un'offerta che fosse un qualcosa di soddisfacente per i ragazzi a livello anche di programmazione e che potesse indurre le famiglie, gli insegnanti, gli istruttori, chi doveva portare i ragazzi, chi doveva canalizzare il loro entusiasmo verso eventualmente il mini-volley, verso lo sport, ad avere un qualcosa di preciso e già di programmato anno per anno. Quello che abbiamo cercato di fare, quando ci siamo visti con Cesare, con Francesco, con Mughetti, con Dalla Tomasina, qualche anno fa è stato proprio quello dell'idea di colmare questa lacuna. Avevamo inizialmente pensato di offrire un prodotto che fosse continuativo nel tempo. Continuativo nel tempo, il tutto è partito diciamo nel 2006-2007. Abbiamo fatto un esperimento durante un torneo di green estivo, introducendo la parte giovanile, a cui abbiamo cercato di agganciare subito un'iniziativa già in corso, quello che è stato un po' il padre del nuovo mini-volley, il Memoria Resicato, nato nel 2004-2005, per iniziativa della società qui nel palazzetto, nell'albero del volley, continuato poi dall'Energy, intitolato nel 2006 a Gaetano Resicato, un ragazzo che aveva nello spirito del mini-volley il proprio credo. Quando mi ha chiamato Francesco per venire assisto alla prima edizione, mi ricordo che mi parlava di numeri grandissimi, erano 200 persone, molto belle, eccetera. Però sapevamo, tutti quanti, sapevamo lui, sapevamo Cesar, tutti quanti che potevamo ottenere molto molto di più. In pratica nella prima edizione, in cui complessivamente abbiamo portato sui 250-300 persone nelle tre tappe, compreso il volley e le idee in prima edizione, siamo arrivati ai 1500-1800 ragazzi che muoviamo adesso. Siamo cresciuti tanto, però rischeremo di correre un graffissimo errore. Spesso si cade nella bulimia numerica, cioè nella fame di voler a tutti i costi vedere tutto tramutare in cifre. E qui mi riaggancio a quello che stavano dicendo prima Roberto Gretti, che diceva che qui aveva vaccinato anche Barbieri e di cui parlava anche Pivotin. Ossia, noi dobbiamo impegnarci perché queste forze, tutto questo sforzo qui non vada a terminare in un precipizio, in un buco. Quello che è stato un pochettino l'errore, bisogna fare dell'autocritica, che il mondo della pallavolo ha commesso per certi anni. Non sapere offrire continuità. Ne siamo stati consci, siamo stati anche vittime di tante problematiche. Una volta probabilmente era più facile, erano più assistiti. Spesso ci siamo trovati a reggere la partita in pochi. Ci contavamo spesso, eravamo 5, 6, 7 persone a cercare di portare avanti tutto il discorso della pallavolo giovanile nella provincia in modo coordinativo. Adesso questa famiglia è cresciuta, gente come Angelo Marzaroli più presente, gente come Stefano Strasi, gente come Stefano Pesci, gente come Gianfranco Lucani, sempre presente, che sta creando la nostra memoria storica. Lo vedete, macchina fotografica, telecamera, sempre presente. Dario Mambriani che racconta le nostre geste. La stampa che ci sta seguendo con continuità. Adesso io ho chiuso questa parte qui, però inviterei a farci un appello anche a noi. Dove possiamo milionare noi stessi e andare direttamente sempre al solo quando organizziamo e quando creiamo delle iniziative. Non dobbiamo farci prendere, io per primo, dalla fama di protagonismo, presenzialismo e se vogliamo certe volte può anche sfociare nel hedonismo. Dobbiamo sempre tenere focalizzati in testa, avere ben presente qual è l'obiettivo. L'obiettivo è la crescita dei ragazzi. Anche se come APAPAR, come federazione, così non appariamo come società, come istituzione, non appariamo, dobbiamo tenere presente che il nostro risultato si vedrà sempre e comunque dalla continuità che avremo nel tempo. Detto questo, vado direttamente alla presentazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.